...detto di grande forma Lazio che ha vinto le ultime tre partite, il Milan che è stato rivitalizzato alla grande... ...comincia questa grande sfida, Milan in completo bianco... ...Ali Cialanoglu, ma ancora Luis Alberto, Berlinesco di Milinkovic, Salic che ha cercato di sorprendere Donnarumma sul primo palo... ...mamma mia cosa ha tentato dopo la differenza... ...Lulic cercava Marusic, ha sbagliato Cialanoglu, allora Marusic... ...e tre l'annata del primo Champions del Milan, dei ricordi sulla Juventus, intanto l'errore di Rodriguez... ...Milinkovic-Savic mette paura al Milan, ha cercato il gol di precisione mirando l'ampolino basso alla sinistra di Donnarumma... ...e qua vediamo due corpi, vince... ...Va con il sinistro, Tracoscia, contrattiene e poi si salva anche su Cutrone... ...strenditoso il portiere della Lazio, ma c'è Caceres... ...prende la mira, da fermo, il tiro è deviato, Donnarumma cerca lo spazio per il cross... ...Lei va, lei va, prova il tiro, c'è anche una leggera navigazione... ...Donnarumma ne ha ripreso il gioco, va Cialanoglu... ...un rimballo, ha rischiato Stracoscia perché ha fatto carabolare la palla sui compagni e poi Cutrone... ...sempre in acquinanza, lancio verso il mobile Donnarumma... ...rischia perché voleva proteggere la rivista da fondo campo... ...ha offerto una... ...Lulic... ...un vicino ai morti, controlla... ...Lluis Alberto, colpo di tacco... ...e si salva Donnarumma... ...intanto Buonaventura... ...una chance con Cialanoglu che ha perso un tempo di gioco... ...poi prova con il destro... ...Cialanoglu... ...e sostiene da quella parte... ...un tiro che non crea... ...ne con Savic, rosso arretrato... ...Lluis Alberto... ...Farolo... ...era in equilibrio precario... ...Marusic... ...Farolo in trenaria... ...Riceve... ...Farolo... ...Suzo... ...Suzo... ...Per Calabria... ...Stracoscia... ...Stracoscia... ...si salva... ...viedere chi andrà a sfidare la Juventus nella finale... ...immobile contro Donnarumma... ... ...ha sempre spizzato sul terreno di gioco... ...Dall'Inite... ...con il destro... ...Buonaventura... ...Olimpico... ...Ponto... ...Barolo... ...Per la Lazio... ...Calciato bene... ...Morini contro... ...Stracoscia... ...Posizione... ...Dini contro... ...Vive Anderson... ...Con il destro... ...Monucci... ...In destro... ...Con il destro... ...Con il destro... ...Dentro... e si guardano fino all'ultimo sembra che da Luis Felipe con il destro ed ora il sinistro di Romagnoli dentro